Il protocollo in realtà è uno strumento di lavoro che ci diamo tra i tre comuni di Pesaro, Gradare e Gabice, guardando ovviamente anche al Parco San Bartolo, quindi all'ente parco e naturalmente quelli che poi saranno gli interlocutori economici del territorio da coinvolgere nelle prossime settimane. Abbiamo visto con favore anche questo rapporto, questo legame tra gli albergatori di Pesaro e di Gabice uscito la settimana scorsa. Riviera del San Bartolo per un motivo anche molto preciso, che è una perla, quella del San Bartolo, quella di quest'area che appunto arriva fino a Gradara, che è conosciuta ma non è sempre conosciuta come parte di Marche, anzi a volte sono più bravi gli esercenti e a volte anche qualche istituzione romagnola a vendere il San Bartolo quasi come proprio, mentre noi a fermare la Riviera del San Bartolo come Pesaro e a Gradare e a Gabice fa due cose, uno lo ricollo qua giustamente nelle Marche e nei territori dei comuni che si insistono, ma soprattutto ci aiuta a parlare di mare e di riviera, quindi una riviera romagnola, marchigiana, che ovviamente diciamo nei brand spesso è sovrastata quella romagnola, la fissiamo un tratto di mare, che è un tratto di mare non solo bellissimo come si vede anche nelle immagini di oggi, ma è anche molto pulito peraltro, a differenza di alcune zone della Romagna, ma è anche un modo di intendere un'ospitalità da gente di frontiera a quale siamo, naturalmente con la consapevolezza che c'è un'identità sfumata tra la Romagna e contaminazioni, così come nella parte nord delle Marche, che crediamo che rappresenti una forte unicità e quindi anche un forte elemento di competitività. Sulla base di questo appunto vogliamo impostare questo lavoro che ripeto è un modo per strutturare meglio quello che già si sta facendo. Noi siamo una parte di un trio, di un'alterna che ha siglato oggi questo accordo turistico che sancisce la nascita di un nuovo distretto turistico, quindi non solamente con una valenza annuale, ma lavoriamo affinché questa nuova destinazione turistica marchigiana e continui da oggi per il futuro a lavorare e a promuovere il territorio di tutti i comuni e anche di tutta la regione Marche. San Bartolo chiude la pianura padana, è il primo promontorio che si è fatto sul mare e chiude idealmente un'area geografica fondamentale dal punto di vista economico ma anche turistico, quindi parliamo di tre regioni fondamentali, Miglia Romagna, Lombardia e Veneto, con un bacino turistico importantissimo e noi ci candidiamo ad essere il collettore tra questo bacino geografico turistico e tutta la regione Marche, quindi come porta di ingresso da nord della regione. Quello che riguarda Gardara continuerà a fare la sua parte come abbiamo fatto finora, proponendo eventi di qualità, una programmazione ricca e soprattutto annuale, quindi non solamente stagionale, è riferita ai mesi estivi, con prodotti culturali e turistici di eccellenza. Mancava qualcosa a nord delle Marche che potessero valorizzare ancora di più questa splendida regione. Da qui appunto è nata l'idea di intanto di firmare un protocollo d'intesa, che sarà un punto di partenza perché dovrà diventare ancora di più un grande attrattore turistico, ma soprattutto deve diventare anche un grande attrattore di risorse europee, perché ci saranno da fare tantissimi progetti sia in termini di promozione, di accoglienza, ma anche di sviluppo di altre strategie. È chiaro che si lavorerà su quelle che sono le caratteristiche che ci contraddistinguono, quindi natura, mare, la natura del San Bartolo, la cultura, la storia, quindi penso a Gradara, a tutto quello che è il castello di Gradara, alla storia, alla cultura di Pesaro, quindi integrando queste tre grandi eccellenze si lavorerà congiuntamente su un progetto integrato di marketing. Quindi da qui la nascita di questo protocollo d'intesa, la nascita di questo nuovo brand, quindi Riviera del San Bartolo, che possa essere, come dicevo, un grande attrattore turistico. È un'iniziativa importante, ovviamente come Confcommercio daremo il massimo supporto e sostegno nelle attività promozionali, ripeto anche per il fatto che i tre comuni sono all'interno del nostro progetto itinerario della bellezza, che è un progetto di promozione, comunicazione turistica, che utilizza tutti gli strumenti del marketing. Ed in questo momento particolare, diciamo, il turismo del dopo Covid, noi qui abbiamo una risorsa estremamente importante, che è appunto il Parco regionale del San Bartolo, con la possibilità di fare tante attività outdoor, e poi con degli spettacoli della natura, come la Baia della Vallugola, o come questo spettacolo di questo panorama straordinario che da Gabice a Monte, insomma, fa vedere tutta la costa adriatica.